La storia di Parking Go inizia nel 1995 con una semplice ma rivoluzionaria intuizione legata al mondo dei trasporti. Non è necessario che il parcheggio sia ridosso dell'aeroporto, basta collegarlo con autobus navetti. L'intuizione diventa possibilità con l'acquisto di un primo parcheggio a Malpensa. Un investimento di 40.000 euro, un'azienda a conduzione familiare e sei dipendenti rappresentano le coordinate di quella che nel giro di 20 anni è diventata l'azienda leader di questo settore. Oggi Parking Go vanta un fatturato di oltre 8 milioni di euro, 1.200.000 clienti e oltre 7.500 accordi con agenzie di viaggio e tour operator. Dà lavoro a 130 persone direttamente e ad altre 70 persone presso i franchising e vanta 11 strutture, ubicate negli aeroporti e nei porti più importanti d'Italia. Ma qual è il suo segreto? Quello che garantisce il moltiplicarsi del fatturato, il progressivo aumento di parcheggi e la conseguente fidelizzazione del cliente sono la diversificazione e l'eccellenza dell'offerta. Nel costo della sosta vengono inclusi la polizza di furto e incendio, la vigilanza 24 ore su 24 e il servizio di autobus navetta. Ma non solo. Vengono pensati e realizzati una serie di servizi a 360 gradi. Il lavaggio dell'auto, l'avvolgimento bagagli, il servizio carvalet e il trasferimento di auto e clienti tra i diversi aeroporti. E questa è solo la punta dell'iceberg. Alla base ci sono un'azienda sana, solida, incentrata sull'attenzione al cliente e sul lavoro di squadra e con un network capace di fare la differenza. Nel corso degli anni Parking Go ha attivato incentivi, campagne di fidelizzazione, convenzioni con aziende e una forte presenza sul web. Un'oculata pianificazione delle strategie commerciali ha dimostrato la capacità di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. La formula del franchising ha assecondato infine la forte propensione all'espansione commerciale attraverso l'affiliazione di strutture che possono godere del prestigio del brand Parking Go oltre a una consulenza completa, una vasta gamma di servizi e campagne pubblicitarie ad hoc. E il futuro? Nuovi segmenti di mercato, non solo parcheggi aeroportuali, ma anche presso i porti italiani come già accade a Venezia e Cagliari con il marchio Parking Go Cruise e presso le principali città italiane ed europee con il brand Parking Go City. Grazie a tutti! Grazie a tutti!